Allora, a me pare che l'Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di se stessa perché poi noi sembra che scopriamo dei dibattiti oggi, penso al tema della competitività, penso al tema dei dazi piuttosto che, però ricordo che il dibattito sulla competitività europea è un dibattito che è iniziato mesi fa che ebbe un'impennata all'indomani dell'Inflation Reduction Act, cioè del piano imponente di aiuti di Stato che l'amministrazione Biden metteva in campo per proteggere l'economia americana che rischiava di creare un disequilibrio con l'attrattività europea e quindi secondo me alla fine il dibattito è sempre, se volessimo farlo con una battuta che ricorda i presidenti americani, non chiederti cosa gli Stati Uniti possano fare per te, chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa che è il dibattito di questa mattina, che è un dibattito particolarmente importante partendo, come sapete, dalla proposta insomma dal piano presentato da Mario Draghi, un altro italiano che è stato incaricato di individuare le priorità per i prossimi anni dell'Unione Europea, credo che ci siano molte sfide, più o meno noi sappiamo che cosa dobbiamo fare la grande domanda alla quale dobbiamo rispondere adesso è se davvero vogliamo dare gli strumenti agli Stati membri per centrare gli obiettivi e le strategie che ci poniamo di fronte e su tutte la questione delle risorse è certamente la questione che va affrontata, perché sappiamo che gli investimenti necessari per fare tutte le cose che vorremmo fare sono molti e quindi questo è secondo me il vero dibattito, che non so se diciamo stamattina arriverà a soluzioni concrete, perché sono sempre dibattiti molto lunghi, ma è l'elemento centrale sul quale intendo concentrarmi. E' una bella domanda guardi, allora partiamo dal presupposto che come voi sapete io sono assolutamente convinta che l'Europa e quindi anche l'Italia insomma debbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza la loro maggiore autonomia anche investendo di più in difesa, chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare questo è un grande dibattito che come lei sa riguarda il patto di stabilità che l'Italia ha posto ci sono nel nuovo patto delle aperture, secondo me va fatto molto di più e quindi penso che questo sia un altro di quei dibattiti che bisognerà prima o poi riaprire, perché anche qui ripeto al di là della volontà poi c'è quello che si può fare e le risorse vanno individuate in qualche modo, l'unica cosa che io non sono disposta a fare ovviamente è prendermela con i cittadini italiani, i lavoratori, come lei sa noi spendiamo le risorse su priorità che sono reali, non gettiamo soldi dalla finestra e quindi dove vanno trovate nuove risorse per scelte che sono strategiche e che io condivido bisogna anche dire come si fa ad aiutare gli Stati membri a trovare quelle risorse. Presidente dell'Ucraina Orban ieri in differenza stampa ha detto che sempre più i liberi europei adesso tendono alla pace e quindi ha chiesto un cessativo col mediato e poi andare verso la pace e però Benessi ieri ha detto che la pace mediata non va bene. Ma guardi noi abbiamo sempre lavorato tutti per la pace, questo è corretto, dopodiché come io ho spiegato molte volte dal mio punto di vista per costruire pace bisognava impedire che ci fosse un'invasione. Oggi se si parla della possibilità che si vada come tutti lo spieghiamo e come tutti abbiamo lavorato perché accadesse verso uno scenario di pace è perché gli ucraini hanno avuto un coraggio straordinario e perché l'Occidente ha sostenuto l'Ucraina e quindi penso che questo sia l'elemento che fa la differenza. Dopodiché ovviamente vedremo come evolve lo scenario nelle prossime settimane ma io ribadisco che insomma finché c'è una guerra l'Italia sarà al fianco dell'Ucraina. Ieri Ellis Line ha detto che io, come era la parola non me la ricordo, svilisco i diritti sindacali perché a una trasmissione radiofonica leggera ho risposto a un sms in modo leggero dicendo che non mi sentivo bene ma ero comunque a fare il mio lavoro perché come voi capite benissimo qui non c'è nessuno che mi possa sostituire in questo senso. Chiaramente citavo il tema dei diritti sindacali, mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile, non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo governo difende molto meglio della sinistra al caviale ma so che sono abituata a fare il mio lavoro anche quando non sono al massimo della forma perché è l'impegno che mi sono presa gli italiani e spero che la sinistra prima o poi individui qualche tema serio sul quale fare politica con questo governo in attesa di ritrovare una identità che le consenta di stare a fianco dei cittadini. Il ruolo di Enon Massi in politica è intervenuto in maniera sostanziale in una campagna elettorale che ha attaccato anche ieri Scolz e il suo, al di là del suo ruolo di imprenditori e quindi si intende l'indiziatà del suo impegno politico e della sua... Guardi, non so che cosa si intenda esattamente per impegno politico, sicuramente è una persona che si è schierata nella campagna elettorale di Donald Trump come migliaia di altre persone si sono schierate nella campagna elettorale americana da una parte e dall'altra, insomma sembra che sia nel diritto dei cittadini aderire alle campagne elettorali, dopodiché io posso dirle che considero, come lei sa, Elon Musk un valore aggiunto in questo tempo, una persona che sicuramente diciamo ha fatto delle cose straordinarie, delle cose importanti e penso che debba e possa essere un interlocutore, una persona con la quale confrontarsi. Ma che ne so, ma questo lo chiedo a Elon Musk, mi scusi, non lo so, non ne ho idea e non mi sembra un tema, mi permetta così, rilevante, è una scelta sua. Ieri il protocollo Albania e l'immigrazione in generale non erano al centro del dibattito del Consiglio Europeo, se ne è parlato nella EPC, nella commissione sulla migrazione alla quale io facevo parte, continua a esserci uno straordinario interesse da parte dei nostri colleghi, è un'attenzione che io considero assolutamente positiva e insomma c'era un po' di curiosità anche circa tutto questo dibattito che riguarda il tema dei paesi sicuri perché poi chiaramente quello che accade in Italia coinvolge anche gli altri e quindi c'era un po' di preoccupazione su questo tema che secondo alcuni i governi non sono nella condizione di poter definire cosa sia un paese sicuro e che leggendo alcune sentenze si rischia di trovarsi di fronte a una realtà nella quale non esistono paesi sicuri che come io ho detto tante volte e come tutti capiscono di fatto compromette ogni possibilità di governare l'immigrazione e di fermare l'immigrazione illegale di massa e quindi sì questa è una parte del dibattito sul quale trovo molta solidarietà.